In studio per questa puntata Elena Mordiglia è un ospite a cui non apro subito il microfono ma vi faccio sentire in un certo senso la sua voce prima ancora di farvi sentire la sua voce. Adesso scoprite come si può fare. La mano di Giulia è una mano che ha girato il mondo. La mano di Giulia ha stretto milioni di mani. La mano di Giulia è un timbro, una garanzia. Ci sono mani che pesano più di un certificato, che non perdono l'unto nemmeno a lavarla e sotto al lavandino. La mano di Giulia ha viaggiato quasi sempre in prima classe. La mano di Giulia si è chiusa sulle valigie con i cartellini più internazionali che si siano collezionati. La mano di Giulia si è incollata sui bordi delle pastiglie. La mano di Giulia si è sdraiata sulle portiere blindate. La mano di Giulia si è consumata su carte. Milioni di carte a forma di piramide. La mano di Giulia si è stretta in un puno che non è voluto uscire, che è rimasta come un nodo in gola. La mano di Giulia si è giunta in preghiera, pregando Dio, facendo finta. Facendo finta perché Giulia e De Gasperi andavano messi insieme e tutti pensavano che facessero la stessa cosa e invece De Gasperi parlava con Dio e Giulia parlava con il prete. La mano di Giulia ha stretto la mano del Papa, quello vero, la mano di Giulia ha stretto la mano del Papa, quello finto, Michele Greco, Boss, di Cosa Nostra. La mano di Giulia e il Papa finto, tutte e due, insieme, giù all'hotel nazionale, a Roma, nella saletta privata per gustarsi un film. La mano di Giulia sviene, nelle mani a cui non sa dare risposta la mano di Giulia stringe con forza le mani che è pronta a comandare. La mano di Giulia gioca in cerchio, aspettando che l'altro finisca, la mano di Giulia ha disegnato un grosso o no, nell'aria, nella polvere. Mentre Aldo Moro respirava cemento nella stanzetta, con il letto rifatto male dalle brigate rosse, la mano di Giulia apre, la mano di Giulia chiude, la mano di Giulia scende, la mano di Giulia accende, la mano di Giulia è santa. E la mano è quella di Giulio, ma la voce è di un altro. Giulio, benvenuto Giulio Cavalli. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, Giulio Cavalli accompagnato in questo piccolo estratto che vi abbiamo fatto sentire da Cisco, un amico oltre che il tuo accompagnatore. Sì, sì. Direi prima di tutto un amico e poi un ottimo accompagnatore. Allora, partiamo, io partirei, guarda, proprio dal teatro così ci togliamo, diciamo, il dente. Parliamo subito del teatro. Il tuo è un teatro partigiano, come tu stesso l'hai definito. È un teatro, cioè, che si schiera da una parte, che prende parte. Teatrare è un dovere, un'altra cosa che hai detto tu. Io ti voglio chiedere, quindi, quando è che questo teatro è nato come passione, più che come mestiere. Quando è che tu hai cominciato? Se hai visto uno spettacolo da bambino, sai, come succede tante volte che ti ha colpito e motivato. No, guarda, da bambino mi portavano a vedere questi spettacoli terribili, sai, tipo il malato immaginario in francese, queste cose che mi veniva allorchite dopo cinque minuti. Però, fin da bambino, ho cominciato a suonare il pianoforte, studiavo il pianoforte e ho sempre trovato la musica, una forma d'espressione che mi aiutava moltissimo, però molto incompleta. E come se mancasse qualcosa. E quando invece ho cominciato a scrivere, ho scoperto che il palcoscenico era il luogo migliore dove coniugare la parola, la scrittura e anche l'espressione. E a dire la verità, io ho iniziato, so che è molto poco chic, in uno spettacolo dialettale di una compagnia di paese. La crappa del nonu, si intitolava. Tra l'altro, non essendo capace io di parlare in dialetto, ero l'unico italiano, cioè l'unico che parlava in italiano. Ed era una commedia di Roberto Zago. Poi da lì ho cominciato a studiare. Devo dire la verità che sono sempre stato abbastanza presuntuoso. Cioè ho iniziato subito decidendo che doveva essere il mio lavoro. Ho capito. Quindi tu hai proprio, ti sei avvicinato al teatro e hai detto quello è. A che età più o meno l'hai capito? Ma avevo 13 anni, 14 anni quando ho cominciato a studiarlo. Poi ovviamente la scelta definitiva che coincide con la fondazione della compagnia è nel 2000. E il teatro che diventa lavoro resta comunque una passione? Ma io ho molti amici attori che mi raccontano di questi compromessi artistici, mediazioni. Noi siamo abbastanza tipici. Nel senso che scrivendo io i testi, facendomi la regia, andando io in scena, capisci che siamo in pochi da mettere d'accordo rispetto agli altri. E come spettatore invece che cosa ti piace? Allora io sono un pessimo spettatore. Mi annoio tantissimo, non andrei mai a vedere uno spettacolo come i miei a teatro. Infatti ho una stima proprio immensa per il mio pubblico perché in realtà secondo me è un grado di sopportazione, probabilmente anche una sensibilità artistica assolutamente superiore alla mia. Amo il teatro di narrazione, non quello paratelevisivo. Amo la follia Davide e Nia, anche se lo amo come scrittore, ma ancora prima che come attore. Ho amato il primo Paolini e trovo immensamente grande come narratore Marco Bagliani. Ah beh, bravessero. Gli spettacoli invece quelli in cui i miei colleghi in realtà rappresentano un personaggio, guarda ti faccio questa confessione, ogni tanto mi capita di andarle a vedere e di sentirmi un po' imbarazzato. Non so perché. Quindi la rappresentazione teatrale, quella come se l'aspettano tutti, non l'amo moltissimo. Spiegaci meglio questo imbarazzo perché questa trasmissione è anche un po', devi sapere, diventa un po' un salottino da psicanalista. Quindi parlaci del tuo imbarazzo. Allora possiamo fare una serie di puntate. Perché io non, guarda, in realtà io non mi considero assolutamente un attore. Quindi va detto subito questo. Nel senso che i miei spettacoli sono sempre Giulio Cavalli racconta questa storia. e la racconta senza fingere di essere Andreotti. Al massimo per esigenze sceniche assumerà una postura andreottiana ma semplicemente in modo molto intellettualmente onesto. Nel senso che io credo che la finzione teatrale, diciamo quella scenica, sai, classica, delle accademie serie, richiede una grande onestà intellettuale, una grande trasparenza, una grande veridicità. Ecco, che molto spesso mi è capitato di non vedere. Allora quando mi capita di andare a vedere uno spettacolo teatrale, e poche volte tra l'altro che riesco ad averne il tempo, temo tantissimo di essere poco credibile quando sono in scena. E quindi in realtà per me diventa un flusso di coscienza, c'è una seduta di psicanalista. Anche quella. Senti, cominciamo subito con la musica che tu ci hai proposto, ci hai portato. La prima cosa che io voglio mettere, anzi prima la ascoltiamo e poi ne parliamo. Ho baciato in bocca la morte tesoro e adesso non posso guardarti e nemmeno toccarti. Beh, perché questa canzone? Io ho qualche idea, ma perché questa canzone? Perché c'è un argomento di cui io amo pochissimo parlare, che è un po' quello che mi è successo, la mia condizione di vita, dopo le minacce, quindi le solite cose, insomma, su cui la scorta, mica la scorta. Quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone, in realtà ho pensato che è la canzone degli scortati, secondo me. Ma degli scortati non tanto, guarda, per l'aspetto, sai, militare, per l'aspetto, per la paura, insomma, per gli ingredienti quelli un po' più commestibili, anche negli scaffali del marketing degli scortati. Perché in realtà la vera prigione è quella di sentirsi dentro qualcosa che inevitabilmente poi ti alimenta e quindi forse in modo anche autodistruttivo ti metti ad inseguire e ti accorgi, nonostante nell'immaginario collettivo sei il paladino, il pretoriano che lotta senza macchia, che non hai completamente disimparato ad essere fuori, ma fuori davvero, cioè fuori nel senso ad abitare al di fuori di questa tua situazione. E quindi la prima volta che l'ho ascoltata, poi, guarda, io ho fatto delle scelte molto da Masini, del Teatro Italiano, però la prima volta che l'ho ascoltata mi ha colpito, perché penso che Vinicio avesse trovato le parole esatte e perché una delle cose che mi terrorizza di più è quella di prendere posizioni partigiane, magari in cose considerate così difficili e straordinarie, e inevitabilmente perdonarsi sempre troppo, magari nella non presa di posizioni delle cose più ordinarie e più banali. Allora, forse avevo intuito le ragioni della canzone, però io l'ho trovata interessante anche perché, proprio per il fatto che questo programma parla di passioni, un modo per evadere è, senza dubbio, amare molto qualcosa, amare molto il teatro, quello è anche uscire dalla quotidianità e anche davvero andare fuori. Quali sono le altre cose? Ci sono delle cose che ti permettono invece di evadere, di essere totalmente libero? No, forse questa è la cosa che più di tutto mi pesa. No, penso, la mia catarsi è il momento teatrale, ma sono proprio quei 50 minuti, quell'ora in scena. Già il camerino molto spesso ha degli strascichi di altro, poi ha dei problemi organizzativi, anche lì, quindi è sempre un vivere guardandosi intorno, ma non guardandosi intorno solo per, tra virgolette, il nemico, guardandosi intorno che è tutta un'organizzazione di spostamenti, eccetera. e poi devo dire, mi sono abituato a vivere il sedile posteriore dell'auto e la musica come il completo isolamento e poi ho un luogo, faccio questa confessione, che è già la seconda, dopo pochi minuti dall'inizio. Sì, mi sto costituendo praticamente a livello emozionale, che è praticamente io quando torno a casa ho una doppia porta, apro la prima porta, quando apro quella porta la scorta ufficialmente verbalizza di avermi lasciato a casa e poi c'è una seconda porta che è quella dell'ingresso della mia casa. Io arrivo sempre molto tardi, nell'intermezzo di quelle due porte ogni tanto mi siedo, mi metto a scrivere, mi fumo una sigaretta, no? Perché è il limbo di sospensione. Ecco, quello forse è un altro dei luoghi in cui scarico. E cos'è che ti piace fare quando tu arrivi a casa la sera? Io voglio proprio sapere che cos'è che tu scrivi, sicuramente, la musica, ascolti la musica, quali sono le cose che ti liberano un po' la mente? Giocare con i miei figli, sicuramente è uno dei momenti, e incontrare, negli ultimi anni mi sono concentrato a farlo, incontrare i vecchi amici che avevi un po' abbandonato, lasciato per strada negli ultimi anni, e sedersi a bere un bicchiere di vino in completa tranquillità, fumandosi una sigaretta o un sigaro. Ecco, questo è... Poi, di passioni particolari, guarda, io penso che forse la mia vera passione rimane comunque sempre la scrittura. Quindi, di solito è lo strumento che utilizzo anche per decomprimermi o per... Tant'è che questa cosa stupisce ogni tanto quando lo racconto, di solito quando finiscono le mie giornate, che finiscono sempre molto tardi, per lo spettacolo, eccetera. Quando arrivo in hotel, di solito fino alle tre, tre e mezza, io sono un ottambolo, dormo molto poco, in realtà mi dedico alla scrittura. Poi scrivo cose terribilmente brutte, perché poi ovviamente figlie di una giornata magari abbastanza convulsa. Però... Quella forse è la mia passione più grande. E che tipo di cose scrivi? Scrivi cose al di là di quello che ovviamente conosciamo, che abbiamo letto? Dipende, nel senso che dipende anche un po' dal tasso alcolico. La tarda ora, il tasso alcolico? Ci piacerebbe leggere queste cose. Ogni tanto scrivo cose terribili, veramente. Va bene. Allora, passiamo a un'altra canzone. E invece qua proprio... Credo che ci metteremo a ballare. Forse entrerà la scorta spaventata. Allora, passiamo a un'altra canzone. Grandissima Rita Franklin. Questa scelta, Giulio? Ah, questa... Avrò avuto 15-16 anni. Educazione da paese. Io sono... Sono cresciuto in un paese in cui l'Odi era la metropoli, pensate. Quindi Milano era raggiungibile. Se cresci in paese le distanze sono tutte molto ristrette, quindi da una parte c'è il Paradiso che è l'Oratorio, il bar dall'altra parte della Via Emilia era l'Inferno. E hai questa angoscia di modernità. Quindi siccome pensi che la modernità che vivi nel tuo luogo è già in ritardo rispetto alla modernità della metropoli, allora tu devi essere postmoderno con qualsiasi scelta musicale. Quindi vestiti malissimo, eravamo un po' l'archeologia dei paninari quando i paninari erano scomparse, sai queste cose. Un giorno finisco a sentire un gruppo musicale, erano i backing blues band, al canguro storico, si può dire perché tanto non esiste più, quindi non è pubblicità, storico, locale di San Colombano all'Ambro, pensa San Colombano all'Ambro per noi, come degli Sherpa una settimana prima, eravamo partiti con gli zaini e sento questa canzone e rimango sconvolto dal fatto che esiste tutto un prima rispetto a Tavazzano e la Via Emilia, che a livello musicale aveva qualcosa da raccontare e che rivendicare la bellezza uscendo dai canoni della modernità tra l'altro era anche molto cool. E allora è proprio, non so, è come se fosse, l'ho scelta perché è veramente il momento secondo me che mi ha svelato un po', sai, in quel bivio in cui improvvisamente per le cose che ti succedono nella vita cadono degli argini e a livello mentale esondi e scopri che c'è ancora qualcosa da bagnare tutto intorno. E questo me lo ricordo esattamente quella serata. Quanti anni avevi? Ma avrò avuto 15, 16 anni. Periodo di grandi epifanie. Sì. Periodo molto difficile. Periodo molto difficile. È vero che essere scioccato da Rita Franklin, cioè io me lo auguro per i miei figli, insomma rispetto agli altri traumi, però era un periodo in cui, era il primo periodo in cui cercavi di affacciarti al mondo, ma il mondo in realtà era all'altezza di un autostop. Io ho sempre vissuto molto il terrore del provincialismo, una cosa di cui mi sono sempre un po' vergognato. Quindi la paura di essere provinciale è una cosa che viene inculcata molto, soprattutto nel territorio dove sono nato. e quindi stavo in un posto in cui fare teatro era considerato impossibile, in cui musicalmente l'omologazione era l'unica via di sopravvivenza. Ed era un'omologazione che però ti accorgevi che era molto, cioè il vero federalismo secondo me sta nei paesi, è il federalismo estetico nell'educazione degli adolescenti nella periferia milanese. Io penso che sia un po' difficile da spiegare agli altri federalisti perché è un concetto un po' troppo pieno per loro, però ecco, quel federalismo mi ha un po' schiacciato. Un'etica del paese che è proprio quella nettamente divisa tra l'oratorio e il bar. Intorno a questi due poli si organizza tutto. E quindi Rita Franklin è stato, non so, penso che sia stato un po' come la prostituta per De Andrè nei vicoli quando ha deciso di essere uomo. Vedete, ti è andata meglio forse. Mi è andata meglio, sì. Senti, ma a proposito di Rita Franklin, questa canzone è molto, molto ovviamente legata a un film, i Blues Brothers. Io volevo chiederti, poi veniamo ai film che tu mi hai suggerito, ma è il tuo rapporto col cinema? Ti piace? Lo guardi? Guarda, sono assolutamente ignorante. Tra l'altro sono circondato invece da cultori del cinema che ogni volta aprono queste loro conversazioni in cui io cerco di infilarmi in modo molto goffo ed è una delle cose che riesco molto poco ad apprezzare. I Blues Brothers però, questo fa abbastanza sorridere, perché sempre in età di adolescenza io ho fatto dei lavori abbastanza strani. Uno dei lavori strani, ma forse uno dei meno strani, era l'animatore turistico e in quell'anno... Beh, è strano. A vederti adesso io non lo direi. E in quell'anno l'animatore turistico era tornata a casa con questo tatuaggio sulla spalla dei Blues Brothers. No? E quindi era, secondo me era appunto per farsi carico di quella famosa epifania di Rita Franklin qualche anno prima. Senti, io adesso faccio sentire una piccola cosa e vediamo se gli ascoltatori indovinano di cosa si tratta, ma io credo di sì, proprio dal primo secondo. Sembra un cannone stasera. Segnè il punto, Drugo. Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva... Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente. E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva... Cosa dava un tono all'ambiente? Che tappeto? Stavi ascoltando la storia di Drugo. Cosa? Hai sentito quello che stava dicendo Drugo? Giocava a boli. Allora non hai nessun punto di riferimento, Donnie. Sei come un bambino che entra in un cinema, pretende di capire... Walter, si può sapere dove vuoi arrivare? Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per me. Già, dove vuoi arrivare? Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a Bambera? Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata. Si può sapere di che parlo? Del mio tappeto. Non ti mischiare, Donnie, non è il tuo capo. Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando? Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno l'altrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile. Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno che... Ma porca puttana! Quello mi ha pisciato sul tappeto. Ha pisciato sul suo tappeto? Donnie, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo. E qual è? Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario. Questo è estremamente interessante, interessantissimo. Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto. Mi sbaglio? No. Mi sbaglio? Sì, ma cosa... Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no? Ti dico di sì. E quello ci ha pisciato? Donnie, ti prego. Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco. Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo. È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto? Pisciano sul tuo bel tappeto. Hanno pisciato sul mio tappeto. Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto. Io la dovevo lasciare, è stata un po' lunga, ma io la dovevo lasciare tutta, perché anche questo è comunque un momento di grande lucidità del mitico Drugo, del Grande Lebowski, che si rende conto che deve fare qualcosa. Perché il Grande Lebowski? E poi un'altra domanda. Il personaggio, ovviamente, Drugo, è una persona come altri personaggi che tu mi hai suggerito e che scopriremo piano piano nel corso della puntata. È davvero un po' un perdigiorno. Una persona davvero che si lascia scivolare la vita addosso. Una persona che mi sembra totalmente diversa da te. Quindi, perché il Grande Lebowski? Perché io sono molto, Lebowski, molto più di quello che sembra. Nel senso che sono convinto, e nessuno avrà mai, secondo me sono veramente in pochi cari, il coraggio di dirlo, perché bisogna essere politicamente corretti, bisogna essere eleganti, bisogna essere signorili, bisogna essere affascinanti, potabili. Ecco, che ognuno di noi in realtà ha un piccolo Drugo e che se dovessimo veramente dedicarci alla vacanza, nel senso dell'encefalogramma piatto della nostra mente, delle nostre emozioni, ecco, io penso che la mia vacanza ideale, il mio periodo, non di riflessione, proprio di flessione ideale, è quello. E ogni tanto, quando mi capita di parlare anche tra amici, molti mi dicono, ma se non facessi quello che fai nella vita, se non ti fossi trovato per i casi della vita, insomma, con una famiglia o col tuo lavoro che hai, sicuramente saresti diventato come lui. E io ci credo. Nel senso che quando mi capitava di stare, anni indietro, però, di stare, ad esempio, da solo in casa per 4-5 giorni, cominciavo ad assumere le sembianze. Ai, ai. E poi perché è un film, secondo me, che ha questa enorme poesia di raccontare le debolezze, di prendersi dalla responsabilità di raccontarle. E io amo, ma in tutti i campi, nel teatro, nella politica, soprattutto amo i personaggi, se vogliamo, chiamiamoli così pubblici, anche se è un po' brutto, che si prendono la responsabilità e il peso di raccontare le proprie fragilità, le proprie debolezze. E quindi questo inseguire alla perfezione mi ricorda molto, invece, l'inseguire l'essere postmoderni, no, di provincia. Lo trovo molto provinciale a livello intellettuale. E quindi io penso che in quel film si è riusciti a rendere popolari, ecco nel senso bello del termine, no, quello più rotondo e pulito, poi dico siamo qua, quindi possiamo ben saperlo, che è una parola profumata, ecco, popolari proprio nel rivendicare il diritto ad avere le proprie debolezze. Poesia che c'è poi in moltissimi dei film dei fratelli Cohen, probabilmente ne avrei visti altri, e secondo me quello che dici è tanto più interessante quanto proprio se lo applichiamo anche alla scena che abbiamo sentito, perché lui in due minuti, cos'è, due minuti e diciannove secondi cambia totalmente l'idea. Quindi anche la poesia, anche la felicità del poter cambiare totalmente opinione. Sì, perché ci capita spesso, penso a tutti, ognuno nelle proprie quotidianità, di sentire molto il peso, almeno a me, io lo sento molto il peso di dover fare quello che la gente si aspetta, o di dover dire quello che la gente si aspetta, no, come se ci fosse una risposta giusta o una risposta sbagliata, e non più una risposta vera, ma una risposta finta. E allora penso che i fratelli Cohen su questo sicuramente qualche lezione l'ha andata. Certo, di sicuro Drugo è un filosofo, non possiamo dirlo. Sicuramente, sicuramente, sicuramente sarebbe anche un buon amministratore, tra l'altro. Ma su quello, ma non so, possiamo pensarci, però, forse. Senti, un altro film che tu hai proposto è la versione di Barney. Ora, non voglio rifarti la stessa domanda, però potrei farti quasi la stessa domanda. Perché? Anche quello è un personaggio davvero simile, simile a Drugo. Perché mi commuovono le coppie anziane felici. E' una cosa che non riesco a... Cioè, io se sono in aeroporto, vedo due persone anziane che si tengono per mano, è una cosa che mi fa scoppiare in lacrime. Cioè, poi mi contengo, ovvio. Se fossi Drugo, mi metterei a piangere lì, li abbraccerei anch'io. E quindi, e perché... E perché Barney, in quel film, è una persona che ha avuto il coraggio di andare fuori, davvero. E quindi, poi non è più riuscito a rientrare, forse. Ha trovato la porta chiusa. E quindi, sicuramente, da questo punto di vista, cioè, la coerenza con se stessi non è sempre la coerenza con ciò che, diciamo, è più rispettabile. E allora, è un film che a me ha colpito molto. Io qui, ecco, mi trovo totalmente a un bivio. Cioè, continuare a parlare di cose serie, oppure passare a Giulio e l'amore. E ti cito un post su Twitter che hai scritto tu, qualche giorno fa, ci pensavo oggi, il bacio è la distanza più corta tra due persone. Ecco, nel dubbio, io farei ascoltare un'altra canzone che hai scelto. Intanto noi pensiamo a quale argomento affrontare. Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della parateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo, che giocava al ramino, che fischiava alle donne. E questa è De Gregori con Buffalo Bill. Una domanda a brucia e pelo proprio. De Gregori o De Andrè? Domanda classicissima. Soprattutto perché tu hai scelto una canzone di De Gregori o una di De Andrè? De Andrè per quello che era e De Gregori perché riesci a scriverci mentre lo ascolti, cosa pressoché impossibile con De Andrè. De Gregori mi ha accompagnato soprattutto nella fase più giovane, De Andrè invece mi è arrivato dopo nella fase più riflessiva. Io invece avrei detto, per me forse ha funzionato il contrario, ma vabbè l'intervistato sei tu, quindi non è interessante perché De Gregori... Io devo confessare che ho ascoltato De Gregori per anni senza mai capirci niente dei testi. Cioè si può dire questa cosa. Per quello, da giovani forse ti allontana un po' De Gregori, però è talmente evocativo, tante sue cose sono talmente piene di significato. Ma vabbè, comunque io vorrei parlare proprio un attimino quindi di musica. Moltissimi dei tuoi spettacoli sono accompagnati, hanno un accompagnamento musicale. Che cos'è per il tuo lavoro la musica e poi anche proprio per te, se l'ascolti, che cosa ti piace ascoltare, che cosa ti piace ascoltare sul lavoro e nella vita privata? Beh, per il mio lavoro è fondamentale perché è il battito cardiaco dello spettacolo. Quindi è perché io che arrivo da una formazione musicale, tra l'altro sono un rompicoglioni spaventoso con i miei musicisti perché pretendo, ma è proprio il ritmo dello spettacolo, facendo monologhi, non volendo scenografia o cercando di essere il più nudo possibile in scena, la musica è tutto il resto, tutto quello che mi serve. E quindi tant'è che ho sempre avuto un legame anche molto morboso con i miei musicisti, proprio dal punto di vista professionale ma anche umano, quindi con Guido Baldoni, con Gaetano Liguori, con Cisco, perché ho sempre chiesto che sia assumesso la responsabilità drammaturgica, se vuoi, dell'essere in scena. E quindi da questo punto di vista non riesco a immaginarmi senza musica, a meno che non ci sia uno spettacolo scritto sul ritmo di un silenzio che quindi abbia il suo ruolo musicale. Invece nella vita mi capita di ascoltare molto distrattamente, purtroppo, perché io non ho avuto un buon rapporto con il mio studiare pianoforte e quindi ho iniziato molto presto, avevo quattro anni, quindi c'è molta curiosità sul perché io potessi iniziare a quattro anni, come puoi immaginare. Quattro anni uno non ha quasi le dita abbastanza lunghe. Tra l'altro non mi sono rimasto visto corte anche a 35, e quindi a me ha insegnato il metodo, se vogliamo, perché comunque ero abituato a studiare pianoforte per due, tre ore al giorno, mentre magari i miei amici andavano a giocare a pallone, invece quindi ho avuto un po' questa infanzia un po' leopardiana, in alcuni aspetti. E quindi questa cosa mi ha creato sempre un rapporto molto conflittuale. Io amo solo le cose con cui ho un rapporto conflittuale. E quindi mi lacero nel pensare a come potrei goderne e non ne godo. Ecco, il mio rapporto con la musica è questo. Quindi può capitare che mi impali dentro un supermercato su un passaggio bellissimo musicale, ma è una guerra interiore quella di mettermi ad ascoltare musica e decidere che quella mezz'ora è dedicata alla musica. Ma hai mai pensato di fare musica magari quando eri più giovane, quando eri ragazzino? Ho avuto un gruppo musicale, cioè facevo il cantante in un gruppo musicale. Da, da tiriamo fuori queste cose. Che faceva blues. Quindi con il mio culo di gomma, come lo chiamerebbe, quindi l'amico del cuore con cui ci sedevamo sul ciglio della strada, a contemplare l'America. Devo dire che i risultati erano abbastanza veramente tristi. I punti di riferimento musicali quali erano? Ma nascevamo con l'idea dei Blues Brothers, solo che ci siamo affezionati più alla dieta dei Blues Brothers e agli stili di vita e non siamo stati molto bravi ad attaccarci nell'ispirazione musicale. Penso che abbiamo fatto, tra l'altro abbiamo avuto dei nomi terribili, perché prima avevamo pezzi di vetro, poi abbiamo detto, ma no, pezzi di vetro non va bene, poi era facile chiamarci in altro modo, poi ci siamo chiamati l'Assa, penso che abbiamo partecipato anche a questa festa dell'unità. Penso, a questo punto sicuramente. A Lodi, non vorrei ricordarmi male, ma secondo me era Lodi. Comunque, il sogno era andare al canguro. Già citato canguro. Non ci siamo riusciti e ricordo che l'unica cosa che siamo riusciti a fare era che un giorno in questo eroico atto di coraggio eravamo andati a rubare le palle del bigliardo del canguro, noi in tipo musica, e ci avevamo sentiti felici così. Beh, sono cose che insomma, da raccontare poi ai posteri, chiaramente. Senti, e questa, quindi, una passione anche per la musica, una passione che pensi che invece, questa è una domanda proprio così, un po' stupidina, una passione che pensi che ti verrà, magari che ti verrà con la vecchia. La pittura. La pittura. La pittura, sì. La pittura è una cosa che mi ha sempre, mi ha sempre affascinato moltissimo, e su cui non mi sono, non so, penso che sia una delle cose, quando pensi, da anziano cosa farò quando andrò in pensione? Io finirò in una grotta come Salinger, no? E quindi penso che da anziano sicuramente la pittura poteva essere una cosa. E poi, ti dico, mi piacerebbe ritornare, so che è una cosa non popolare, però mi piacerebbe tornare allo stadio. Ti piacerebbe tornare allo stadio? Ti piace il calcio? Mi piacerebbe innamorarmi della squadra della mia paese, della mia città, no? Queste cose... Ma non il calcio, non... Io sono tifoso del Torino, quindi puoi immaginare, ci siamo abituati, ho sempre amato le minoranze, anche dal punto di vista calcistico. Però, ecco, andare... Lo stadio di paese, non so, quella dimensione di stadio, che è molto simile al, come dire, al baseball familiare americano, no? Queste cose qui. Anche questa è una cosa che mi piace. Beh, che poi ha una festa, ecco. Sì, in Italia è molto più difficile, però... Sì, io sai, quando mi capito di andare allo stadio è sempre... è quasi sempre per... per... una difficoltà anche lì di organizzazione, quindi poi ogni tanto mi capito di andare con Giancarlo Caselli, perché anche lui è tifoso del Torino, e quindi puoi immaginare... Ecco, invece andare allo stadio così, con i mifili, con i pop corn, non so se si vende i pop corn allo stadio, però non lo immagino così. Credo che non si immagino. Guarda, non lo so, io sono andata a quest'inverno, dopo tantissimi anni che... non ho visto pop corn, però... Allora diventare presidente di una squadra, non so, tipo della sordiese, dell'Odi Vecchio, non so, una squadra così, mettere una macchinetta di pop corn e andare lì. Il sogno di vecchiaia di Giulio Cavalli. Si davvero, se non avete voglia di sentire questa storia, magari vorreste sapere prima di tutto dove sono nato e come è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io e tutte quelle bagianate alla David Copperfield, ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca e secondo, ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti, per uno, se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre, carini e tutto quanto, chi lo nega, ma anche maledettamente suscettibili. Vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso Natale prima di ridurmi così a terra da dovermene venire qui a grattarmi la pancia. Ecco, io credo che tantissimi ascoltatori abbiano riconosciuto il famosissimo incipit del giovane Holden, un altro personaggio nella galleria di personaggi che ha qualcosa anche in comune con Drugo. Perché? Ma guarda, il giovane Holden siamo, secondo me, siamo noi quando in realtà ci accorgiamo di esserci costruiti delle sovrastrutture paurose e di aver visto gigantesche i nostri lillipuziani problemi. E dall'altra parte però anche quando ci sentiamo eroici per battaglie che sono talmente personali che non si trovano nemmeno le parole per raccontarle e quindi questa pienezza cioè questa questa vitalità furiosa così che io mi auguro che non sia relegata solo all'adolescenza secondo me Salinger l'ha raccontata in un modo meraviglioso e poi in fondo secondo me tutti noi sapevamo che Salinger sarebbe finito così perché alla fine una persona che si svuota talmente tanto per scrivere in questo modo inevitabilmente poi a dei problemi di aridità e di anaffettività per il resto del mondo e quindi io ho deciso ho cominciato a sognare di fare lo scrittore perché mi ero innamorato della copertina del giovane e quindi sognavo di scrivere un libro per Einaudi e di convincere Einaudi a fare quella stessa copertina uguale identica rimane tuttora un mio sogno penso difficilmente realizzabile però proveremo a parlare mai dire mai facciamo un piccolo appello a Einaudi e davvero la copertina è storica senti il giovane Holden è anche importantissimo anche famoso così famoso per aver inventato un linguaggio che è poi il linguaggio del giovane Holden che è un linguaggio assolutamente riconoscibile chiunque di noi dice vattela pesca espressioni di questo tipo subito rimanda al giovane Holden io quello che ti voglio chiedere è come si crea un linguaggio tu come fai a comunicare hai creato un tuo linguaggio cos'è il linguaggio per te ma guarda non lo so perché poi è una conformazione il linguaggio io guarda io vengo sgridato tutti i giorni per come scrivo nel senso che ho i miei collaboratori politici che dicono che scrivo cose troppo umane i miei collaboratori teatrali che mi dicono eh però su questo hai sempre questa postura politica e quindi per me è sempre è sempre molto faticoso i miei gli editor che mi dicono eh però Giulio scrivi troppo teatrale non lo so io credo non so se è un mio linguaggio nel senso che probabilmente sono riconoscibile forse forse più per la forma parlo almeno a livello teatrale poi i miei libri sono molto diversi l'innocenza di Giulio penso e i nomi con i nomi infami sembrano scritte due persone diverse perché poi io di solito scrivo molto sull'onda emotiva e quindi quel libro non potrei mai più riscriverlo non ne sarei capace di riscriverlo in quel modo perché probabilmente intorno mi sono successe cose eh si sono sistemate si sono incastrate delle vicende e quindi non ho più non ho più lo spirito io credo che credo sempre molto nel linguaggio vomitato quindi non filtrato non mediato non ho mai amato le mediazioni mi dicono che sia un grosso problema non lo so anzi mi dicono che le mediazioni dovrebbero essere molto spesso anche uno dei punti di forza della mia carriera io non le ho mai amate cioè nessuno mi ha mai insegnato il confine tra mediazione e compromesso a me hanno puzzato tutte e due lo stesso modo il compromesso nobile non l'ho mai visto e quindi io penso che saling su questo sicuramente sia stato grande e a proposito di comunicazione tu usi i social network usi sicuramente twitter dove io sono andata a curiosare appunto ma non torniamo su Giulio l'amore che è dove mi sgridano vedi perché scrivo perché dovrei scrivere sempre di finanza internazionale e poi ogni tanto scrivo di quelle cose qual è il tuo rapporto con i social network li usi è un modo di comunicare che ti piace che utilizzi sì 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 li uso ma senza malattia nel senso però è un luogo di confronto che che apprezzo molto ma soprattutto nel suo aspetto critico perché poi alla fine i social network sai di solito sono le voci critiche no? quelle che ti vengono a cercare anche lì quindi ti capita quindi anche di avere degli scambi interessanti? certo guarda io ho scritto cose non so mi è capitato a volte di litigare con difensori del trota leghisti e io penso che in certi punti il dialogo fosse Rablè veramente che non posso pubblicarlo per diritti d'autore però cioè vivo esperienze molto kafkiane proprio dal punto di vista intellettuale è anche una fonte di ispirazione quindi sì 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 sicuramente in tutto questo quindi si ritorna alla musica non che così concludiamo con un brano che purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito che dicevi prima non essere appunto solo una punteggiatura diciamo all'interno del tuo lavoro che poi è quello del teatro ma veramente un altro una protagonista grazie mille Giulio Cavalli ci lasciamo con la voce di Mercedes Sosa perché questa conzone Alfonsina Yelmar? perché è un regalo da da una persona che mi ha detto tu sei convinto che ci siano delle cose che siccome tu non conosci non vanno apprezzate e quindi sono sicuro che l'ascolterai farai la faccia dicendo che sì è abbastanza bellina però in fondo ti avrai emozionato ed è andata così e quindi l'ho scelta aveva ragione questa persona aveva ragione grazie mille Giulio alla prossima grazie a voi per la blanda arena che lama il mare grazie a tutti 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 grazie a tutti